allora sono qui in solidox ho fatto questa parte e voglio usare il comando cancella dunque se io vado a cancellare questa faccia qua col tasto destro seleziono col tasto sinistro col tasto destro richiamo i comandi ok questi qua comando dal tasto destro e vado a cancellare ok se io metto cancella e patch qui mi fa errore se però faccio qua cancello anche questa faccia ok e lascio cancella e patch a questo punto mi si porta a pari di questa superficie di questo difatti questo è 70 e anche qua è 70 no se io vado a vedere il delay cioè prima del delay era 70 dunque in pratica cancellando queste due facce va si cancellano e questo si porta sulla faccia del 70 se vado a cancellare solo una non lo fa ok se vado a cancellare questa mi crea problemi e se vado a cancellare solo questa non lo fa se faccio tutte e due qui va e mi cancella ok adesso ipotizziamo che sono su un tondo e su un tondo come questo col forato non voglio avere più il forato vabbè classico vado in estrusione riempio rifaccio così via però potrei fare anche con una modifica diretta andare semplicemente qua cancella faccia cancella e patch e riempie a questo punto mi si riempie la foratura la foratura viene eliminata ok spero di essere stato utile ci vediamo la prossima arrivederci no però adesso volevo dire naturalmente se io cancello questa ok andiamo a cancellare lui non dovrebbe cancellarmi la di fatti non cancella però se questa vado qua e cancella a questo punto dovrebbe andare sul più grande vediamo eccolo qua che mi si riempie dunque questo era cento e a questo punto viene annullata con essa diventa proprio un tondo tutto pieno spero di essere stato utile ci vediamo alla prossima arrivederci